Cos'è che può trasformare la scrittura da un'attività artistica, liberatoria, espressiva, che fa uscire poi la tua vera interiorità, le tue passioni, a una cosa che ti fa morire dentro, che senti come una fatica, come qualcosa di inutile, come qualcosa... che cos'è questa cosa che può portarci a cambiare radicalmente la visione della scrittura come attività? La motivazione sbagliata. Bene signori, sono il Duca di Baionette e mi occupo di scrittura creativa. Oggi voglio parlarvi dell'errore più grosso che potreste fare se siete interessati a scrivere e a scrivere come attività piacevole, a scrivere come attività che vi darà grandi soddisfazioni nella vita e nel lungo periodo che vi permetterà di scrivere molto molto a lungo e con grande soddisfazione. Questo errore è la scelta del perché lo state facendo, la scelta della motivazione. La motivazione sbagliata può uccidere la passione per la scrittura. Ora cominciamo con un piccolo aneddoto. Vi metto poi il link nell'info box dell'articolo. Un piccolo aneddoto su in che modo il rapporto con ciò che facciamo può cambiare in base al motivo per cui lo facciamo. Tipicamente non siamo mossi da motivi interni, passione, miglioramento, sentirci più competenti, insomma cose così, o motivi esterni. Pagaci, una cosa così, ok? Ci danno dei soldi per farlo, ok? Ecco. Ora, motivi interni e esterni adesso non stiamo a discutere, non è rilevante. Vi lascio un articolo molto dettagliato, riporta vari esperimenti, alcuni molto datati, come quello di cui parlo adesso, che è degli anni 70, che però è interessante anche se molto datato, ok? Vi dà almeno uno spunto, poi ci sono altri esperimenti, guardate l'articolo se volete. Lo spunto che voglio dare è questo. Vi presento questo esperimento fatto, mi sembra, nel 1973. Venne pesa una classe di bambini in età prescolare, ok? Quindi immagino 5-6 anni, una cosa così, ecco. A questi bambini vennero osservati per alcuni giorni durante le attività libere per guardare chi sceglieva di disegnare, di colorare. I bambini che sceglievano di disegnare e colorare rispetto ad altre attività di gioco venivano, diciamo, indicati come gli artisti, ok? Quindi questi bambini, questi bambini classificati come artisti vennero suddivisi in tre categorie, in tre gruppi, ok? Quindi i bambini vennero divisi in tre gruppi dagli psicologi che li avevano osservati lì nascosto per mi sembra tre giorni. Venne fatto un gruppo A, un gruppo B e un gruppo C, ok? Quindi siamo in ambito artistico, è disegno, illustrazione, disegno, colorazione, quella roba lì, insomma. Che è molto simile all'ambito espressivo, no? Della scrittura. Ai bambini del gruppo A venne detto, se voi durante i periodi di attività libere deciderete di disegnare o colorare, vi verrà dato un attestato che indica un attestato tutto ricoperto di cose sbrilluccicose, che dice quanto siete incredibilmente fighi, no? Siete meravigliosi, ok? Al gruppo B invece non venne detto niente, ma se avessero scelto di disegnare, a sorpresa sarebbero stati premiati con un attestato di quanto sono meravigliosi, bla bla bla, uguale a quello del gruppo A, ok? Al gruppo C non dissero niente e se anche disegnavano non davano nessun attestato di superfigaggi, ok? Quindi abbiamo gruppo A, se voi disegnerete vi daremo un attestato. Gruppo B, a sorpresa vi viene dato un attestato se avete disegnato, voi non lo sapete che arriverà. Gruppo C, fate il cazzo che vi pare, non vi diamo niente e tanto voi non sapete di sta cosa, ok? Venne fatto l'esperimento, per qualche giorno li osservano, vengono assegnati premi, poi gli psicologi se liavano dei coglioni. Due settimane dopo tornano, ok? Quindi per due settimane i bambini si fanno i cavoli loro, però avendo in un caso specifico il gruppo A una visione diversa di come possono andare le cose, una visione diversa dell'arte, del disegno. Si torna con i psicologi e i bambini. Quello che viene attestato è che il gruppo B e C continuano a disegnare esattamente quanto prima. La passione per il disegno, l'interesse per il disegno non è mutato. Il gruppo A, ovvero il gruppo che era a cui è stato detto che disegnare avrebbe comportato in automatico il premio di superfigaggine, manifestava un interesse per il disegno molto inferiore. Era come se la loro visione interiore del disegno fosse cambiata. Ora, cosa era successo? Che da una motivazione interna, ah che bello come mi esprimo disegnando, che figata, com'è divertente, che era come i bambini prima vivevano il disegno, adesso il gruppo A si trovava ad avere una motivazione esterna, un premio. Un premio dato per il fatto stesso di aver disegnato. Improvvisamente questo premio, questo pagamento, inquinava la loro visione del disegno. Sapevano che l'avrebbero fatto per un premio. Dentro di loro questa motivazione esterna li portava a creare una motivazione interna diversa, ok? Che li portava a perdere l'interesse per il disegno. Adesso non entro nel discorso, poi ci sono altri esempi che vengono fatti con altri casi nell'articolo, ve lo lascio, è molto carino, molto lungo. Mentre invece il gruppo B, per dire, dice ma anche loro sono stati premiati. Sì, ma loro hanno disegnato per passione, hanno disegnato perché volevano e a sorpresa è arrivato un premio. Il premio è arrivato dopo la competenza, questa è una cosa che si vede anche in altri esperimenti. Premiare qualcuno, anche con dei soldi, ok? Perché si è dimostrato un artista competente, una persona molto valida, una persona... Tu lo fai per l'arte, lo fai per la competenza, lo fai per dimostrare a te stesso agli altri quanto sei bravo per esprimerti e ti arrivano anche soldi, fantastico. Ma se comincia a diventare io lo faccio per i soldi, tipo, ti diamo 20.000 euro di anticipo, è una cosa mostruosa, cioè siete degli autori di una fascia un po' importante, soprattutto in Italia dove gli anticipi sono piccoli, sto parlando dei, non lo so, dei 100.000, no, cos'è, 125.000 dollari di anticipo del film, che davano lo scrittore nel film Alex ed Emma, o scrittore di bestseller mega anticipo da supermercato americano di una volta, da supermercato, non supermercato, americano di una volta, e cose così, ok? Quando la tua motivazione diventa il denaro e quindi si sposta tutto su il funzionamento del mercato, diventa una motivazione esterna invece che a te e tu, cambia la giustificazione interna che ci diamo, cambia il modo in cui viviamo la cosa, ok? Diventa, lo sto facendo per quello, e la passione si spegne. Quindi a questo punto vi vengo a dire, vi vengo a popolo una semplice domanda, la prima è questa. Se la vostra ottica è quella di fare bene, ma anche, diciamo, mettiamo che volete dire, io voglio in futuro scrivere e guadagnare anche con la scrittura, io vi sconsiglio di pensarlo, non funziona così, già pensare così vi porta al fallimento, per i motivi detti nel gruppo A, per esempio. Ma mettiamo che voi abbiate comunque questa cosa del dire, ok, vorrei anche guadagnare con la scrittura, anche guadagnare bene, io ve lo dico, non succederà, conosco persone a cui è successo, va bene, non intendo persone super famose, intendo i classici signori nessuno che stanno guadagnando, non importa, non dovete seguire il motivo sbagliato. Però anche se voleste seguirlo, è più facile farlo, secondo voi, se siete delle persone demotivate, stanche, che scrivono a fatica, a cui non va a scrivere, che letteralmente lo fanno soltanto per l'obiettivo dei soldi, o se siete delle persone che non pensano ai soldi, lo fanno con passione, lo fanno con gran ritmo, producono tanto e con passione, producono quindi delle storie cariche di quella sensazione di piacere, cariche di questa voglia, di questa originalità, e poi venite pagati per il risultato. Secondo voi cosa è più facile? Che abbia una carriera soddisfacente, soprattutto nel lungo periodo, e con risultati economici, quello che scrive poco, svogliato, ovviamente peggio, perché non sta lottando per eccellere, lo sta facendo solo per i soldi, e se stai scrivendo solo per i soldi, una volta che più o meno sai che la pubblicazione ti verrà garantita, lo standard qualitativo che ti serve è abbastanza basso, se non molto basso. Solo che, se lo standard qualitativo basso erode i lettori nel tempo, se uno standard qualitativo più alto permette di costruire fan entusiasti che possono consigliarti, nel lungo periodo vincerà quello che scrive molto, opere molto belle, con grande passione, che piacciono ai lettori, e ok, secondariamente lo pagano, o quello che scrive opere sempre più spente, scrive sempre di meno, pensa soltanto ai soldi, ma i lettori ne risentono, e prima o poi, immaginiamo, svaniranno anche i soldi, se lo stai facendo per i soldi, non devi farlo per i soldi. Semplice, no? Quindi, soprattutto in ambito artistico, ma questo vale un po' in tutte le cose. Tu devi trovare qualcosa che ti appassioni, sì, deve essere anche qualcosa che il mercato vuole, certo, se non c'è proprio mercato per una cosa non puoi farci niente, ma questa cosa deve appassionarti, e tu devi farlo per l'ottica del perfezionismo, della qualità, del piacere di dimostrare, di esprimerti. Prendiamo per esempio che tu vuoi entrare in un mercato assolutamente normale, come può essere quello del fare il macellaio. Tu preferiresti fare il macellaio in modo spento, stanco, non ti vengono le idee, non ti viene da selezionare, non ti viene, quindi non ti manca la passione, ti manca anche di trasmettere ai clienti, e quindi al tuo banco macelleria i clienti affezionati non nascono. Tu non sei in grado di fare quei trucchetti che portano da farli affezionare, soltanto le cose classiche che ti vengono suggerite dal supermercato, tipo in questo periodo le costate sono a 14,90 invece che a 19,90, quella roba lì. Però ti manca quella passione, quella agganciare il cliente, quello rende un cliente affezionato che verrà apposta da te per il banco macelleria, anche se poi magari vai a un altro supermercato per buona parte delle altre cose, eccetera, eccetera. In mio caso, col banco macelleria, dell'MD che frequento, io faccio principalmente la spesa un S lunga, per altri motivi, e poi c'ho questo banco macelleria che è apparentemente meno fornito dell'S lunga e in realtà ha esattamente certe cose che cerco, ma soprattutto la selezione e l'occhio di uno dei macellai che conosco e che ho conosciuto tramite il fatto che lui ha dimostrato passione e me l'ha trasmessa, ok? Facendomi interessare, facendomi sentire che lui è preoccupato dal mio interesse. Una volta addirittura mi ha portato un pezzo di carne particolarmente marezzata, sapendo che io apprezzo la qualità della carne, non cerco necessariamente sempre il pezzo super magro, molto giovane. Lui aveva tenuto da parte un pezzo per sé da portarsi via, quando mi ha visto arrivare, ha visto che erano troppo magri i pezzi, mi ha detto aspetta un attimo, andate a prendere, questo l'avevo ottenuto per me, te lo do. Allo stesso prezzo ovviamente dei pezzi troppo maghi, era un pezzo che aveva trovato che aveva quelle qualità organolettiche migliori, questa bella marezzatura, eccetera, e questa è una cosa che ha fatto affezione, tu vedi proprio la passione, ok? La sua passione, con il suo amore, per fare il macellaio, porta le persone a voler stare di più con lui, a fidarsi di più, ok? Quindi anche se vuoi fare per esempio un lavoro di questo tipo, che può sembrare poco artistico, il macellaio, l'idraulico, il tuttofare, quello che vuoi, anche lì, se tu non insegui soltanto i soldi, ma lo fai con passione, e secondariamente arrivano i soldi, poi ovviamente i soldi servono, cioè non è che può dire smetto di farlo, anche perché se lo fa per passione ovviamente, ma se invece non lo fai per passione, sei soltanto un grigio burocrate della carne, un grigio colletto gris, sei un colletto bianco della macelleria, sei sostituibile da mille altri, e sapete perché posso garantire che lui lo fa per passione, che questo macellaio lo fa per passione? Perché lo so, e come lo so? Non solo perché lo vedo, ma lui letteralmente era prima un macellaio che aveva una sua macelleria, che seguiva il suo sogno di cos'è essere un macellaio, e a un certo punto, per vari motivi non me li ha spiegati, non li ho neanche chiesti, insomma non volevo neanche entrare troppo nella questione, e si è trovato a dover invece fare il macellaio in una macelleria di catena, ok? Però lui è una persona che nasceva con l'amore per la carne, l'amore per l'essere un macellaio, e quando è diventato un dipendente ha mantenuto questo amore, e si sente, si sente il suo amore per la ciccia, ok? Spero di non aver offeso nessun vegetariano e nessun vegano, cose simili, mi spiace, era l'esempio che avevo era questo, avesse avuto un esempio con uno che vende verdure, vista la mia passione smodata per i peperoni, per le carote, soprattutto i peperoni, eccetera, vi avrei portato quello, ok? Può non sembrare maduro peperoni, insalate, cose così, poi va bene. Tipicamente mi piace più parlare di cose di macelleria. Ora signori, anche se voi lo fate per i soldi, non dovete mettere i soldi al 100, dovete mettere la passione. Ora vi porto altri esempi. Noi abbiamo un corso, in realtà è una specie di cappello di chiusura di un altro corso, ma godibile come corso a sé perché ricchissimo di contenuti subito applicabili e di spunti, che si chiama esperienza antiblocco. Nel momento in cui vi parlo, in cui registro, scusate, esperienza antiblocco è in offerta assieme a strategia antiblocco che il corso madre, ok? Da cui nasce esperienza antiblocco, anche se in realtà sono staccabili e separabili l'uno dall'altro, puoi fare strategia senza esperienze, avere esperienze senza strategia, ma assieme si alimentano meglio. Un po' come strategia a sua volta si alimenta al meglio con il corso avanzato di scrittura creativa. In questo momento sono tutte e tre, tutte e quattro, scusate, doppio corso di scrittura creativa e sceneggiatura. Un corso, l'altro corso. Strategia antiblocco, che vi spiega come seguire le vostre passioni e scrivere di più e meglio e con più felicità, in un modo simile a ciò che gli psicologi ci hanno insegnato su cosa permette di ottenere quel mix perfetto di amore, passione e ricompensa, che è quello che se alcuni di voi pensate la ricompensa, pensate che la ricompensa si segue seguendo la passione anche, non seguendo solo i soldi, dopo ci torneremo. E questo pacchetto completo con questi quattro corsi viene venduto a un prezzo ridicolo, soltanto 1200 euro, includente già un 10% di sconto addizionale per il pagamento unico, oppure quattro comoderate, mi sembra, a 340 euro. Comunque guardate il link che ve lo lascio sotto. Ok? Questa offerta scade martedì 15, che è domani, alle 23.59. Ok? Ora, perché vi parlo così tanto delle passioni di questa cosa? Non solo per dirvi in che modo è più efficiente nell'ottica di voler guadagnare quei libri, anche se vi dico sempre per favore non guardate al guadagno. Se guardate al guadagno cadete nella categoria dei bambini nel gruppo A. Vi svoglierete, smetterete di voler che siete stanchi, non avrete più voglia, non vi piacerà più. Ok? O vi piacerà di meno. Non guardate al guadagno, guardate alla passione. Se guardate alla passione c'è anche un vantaggio in più, perché non è solo che perderete un po' la voglia di scrivere, voi rischiate di perderla tutta. Questa sera, cioè lunedì 14, questa sera sarà ospite in live Capitan Miller. Capitan Miller è una persona che aveva una enorme e prorompente passione per la scrittura, a un certo punto affrontato l'errore del gruppo A. E tra poco torneremo su cosa è questo errore di nuovo. Da quando ha affrontato l'errore del gruppo A, cioè ha cominciato a cambiare il motivo per cui stava scrivendo, ha cominciato non solo a spegnersi a livello di idee, ma spegne la sua passione per la scrittura. E voi direte, vabbè, uno perde la passione per un hobby, ne trova un altro. Dipende sempre. La scrittura per chi l'ama, come attività artistica, è molto importante. Ora immaginate questo scenario. Io prima avevo parlato dei colletti bianchi della scrittura, giacche grigie, tristi, burocrati della scrittura. Sono veri, esistono. Il problema è che se tu ti trovi che è un lavoro che come tanti lavori non ti piace, perché tanti lavori noi li viviamo come i bambini del gruppo A, ci pagano per farlo ma non ce ne frega un cazzo. Non abbiamo lo stimolo al dire sono sempre più bravo, mostro le mie competenze, più sono competente, più vengo valorizzato con complimenti, con risultati e con pagamenti, che sarebbe il modo in cui dovrebbe funzionare il lavoro e per chi è bravo a progettare il lavoro, sia come, diciamo, capo, dirigente, cose varie, eccetera, che motiva i sottoposti e crea un ambiente in cui il compenso è frutto del risultato. Il risultato è comunque una cosa che mostra al dipendente quanto è bravo e quanto quindi si sente valorizzato e cresce umanamente, eccetera, eccetera, voi direte, porca troia, vuole lavorare in un posto così, lo so, sono casi rari, la maggior parte delle volte il lavoro diventa, no, tu fai lì, fai la cosa e poi ti vengono dati i soldi, lo stai facendo per soldi, devi essere grato che ti paghiamo, dovresti lavorare gratis, capite? Cose brutte. Anche tanti libri professionisti finiscono per sbagliare l'approccio e mettere il carro davanti ai buoi. Certo, i buoi possono spingere questo carro. Male. Ma se glielo fai tirare nel modo tradizionale, invece di farglielo spintonare, può essere meglio, ok? Non so, per esempio, c'hanno il gioco e tutto, invece dove lo... e spintonano, poi un altro bove passa al lato del carro, devi rispingere dietro il carro e dire, ma spingelo con state... ma cazzo, attaccatela al gioco, usate il carro nel verso giusto, no? Il carro nel verso giusto è prima la passione, le ricompense a livello interiore, la crescita, il motivo per cui lo stai facendo veramente, e poi i soldi. Così i soldi saranno di più. Chiaro? Bene. L'errore di Capitan Miller, ma ce ne parlerà stasera, riguardato un errore di approccio, ok? Lo stesso problema è ciò di cui ci ha discusso, che il motivo numero uno per cui ho visto tanti autori nel tempo perdersi per strada e abbandonare la scrittura, ce ne ha parlato Marco Cresciz nella suo intervento per esperienza antiblocco. Sono quattro interventi esperienza antiblocco, incluso nel pacchetto quello che vi ho descritto prima, vaido fino al 15 marzo. In esperienza antiblocco, uno dei quattro interventi di Marco Cresciz è incentrato sulle passioni, è incentrato sui veri motivi per scrivere, incentrato soprattutto sul modo in cui i motivi sbagliati, inseguire il pagamento, inseguire ciò che vuole, fare ciò che non vuoi, porta a spegnersi a smettere di scrivere, mentre invece seguire motivi giusti ti porta a scrivere di più, ad avere più lettori, a vendere di più, a fare più soldi in realtà, ok? Ve lo possiamo dire senza problemi ora. Voi sapete, io spingo molto il discorso delle passioni, anche perché come detto, se tu fai un lavoro normale e quel lavoro normale è un lavoro che non ti soddisfa, la scrittura è la cosa che deve soddisfarti, la scrittura ti muove, ti dà la passione, tu letteralmente arrivi stanco dal lavoro, stanco dalla settimana lavorativa e vuoi scrivere. E scrivere ti li carica, scrivere ti fa dire la mia vita ha un significato, ha uno scopo, ma se tu improvvisamente da ciò che dà uno scopo alla tua vita, togli lo scopo, togli la passione, lasci solo il denaro, diventa che hai un grigio lavoro, che fai solo per i soldi, e poi una seconda attività, una grigia attività, che ormai stai facendo solo per i soldi. Ti stai privando della voglia di vivere, ti stai privando di quella scintilla interiore che ti rende una persona appassionata, viva. E ricordate anche, questo può essere importante per alcuni di voi, che ad esempio se siete in una relazione, quindi sto parlando in questo caso agli autori maschi, ma penso valga anche per gli autori femmine, perché penso, dal mio punto di vista, anche per un uomo questa cosa nella propria compagna è bella, voi volete la passione, volete la scintilla, volete quel qualcosa, l'obiettivo nel vostro partner, ok? Quindi, soprattutto le donne vogliono molto, non tanto che il loro partner abbia successo economico, ma che abbia una scintilla, una motivazione, un progetto, un qualcosa che faccia vedere che ha una direzione e sta lottando per qualcosa. Soprattutto quando è una cosa artistica piace molto, ok? Se voi togliete anche quella cosa, e quindi passate ad essere l'uomo che lei ha sposato, ok? O la donna che lui ha sposato, però, ok? Che era, ok, ha un lavoro come tanti, ma è mosso da questa grande scintilla per la scrittura. Voi la scrittura magari neanche interessa granché, ma voi vedete che un uomo con una passione, una donna con una passione, ok? Il vostro compagno, la vostra compagna, in vari sensi, anche se siete entrambi uomini e entrambi, no? Il cazzo che volete, non sto facendo esempi sessisti, cioè mettete il cazzo che volete nell'esempio, ok? È motivato da quello, l'avete sposato o siete conviventi per quello, anche per quello, voi vedete quella scintilla, quello che lo rende diverso da tutti gli altri. Improvvisamente scompare, un po' alla volta muore, e vi trovate una relazione in cui lentamente ha relazioni diventate di routine, e lui non ha più quella scintilla che lo rendeva come era una volta. Come la vedete nell'ottica che prima o poi la relazione possa esplodere, e ci sia un bellissimo divorzio con tutte le conseguenze, poi niente di male quando uno dice bisogna per forza divorziare, poi non sono d'accordo conoscendo cose psicologiche sul fatto che lo debba fare qualcosa, perché ciò che vogliamo fare, ciò che costruiamo nella nostra mente lo decidiamo noi, però facciamo finta, ci sono casi in cui facciamo finta che eccetera eccetera si debba divorziare. Ma è meglio non arrivarci, ecco. E se voi comincerete a inseguire il denaro a tutti i costi come obiettivo della scrittura, e denaro vuol dire anche soltanto scrivo per avere più possibilità che gli editori mi pubblichano, per avere più lettori, più lettori, in realtà stai pensando più copie vendute, più soldi. Perché tu non stai scrivendo per comunicare la tua passione, e avendo una grande passione che comunichai che ha un grande competenza avrai come premio di avere più lettori, tu stai puntando direttamente più lettori. Non è una cosa sottile, cambia radicalmente il risultato che avrai. In una versione stai lottando per esprimere te stesso, la tua arte, le tue qualità interiori, la tua visione, e poi arriverai inaspettato il premio di tanti lettori che dicono cazzo ma tu sei veramente bravo, che figo questo libro. E tu dici cazzo no che bello, e poi ti arrivano anche i soldi ovviamente, tanti lettori, tanti soldi. Nell'altra versione, a te non frega un cazzo di esprimere te stesso per davvero, ti tresso i lettori, e farei quello che vogliono loro. Vogliono romanzi gialli? E tu dici tenterò di entrare nei gialli, a te non frega un cazzo dei gialli ma vuoi entrare nei gialli. Perché vi faccio l'esempio dei gialli? O potremmo fare l'esempio dei romanzi storici? Solamente i romanzi storici è un esempio che suona più strano perché dal mio punto di vista sarebbe un'ottima seconda scelta, ma perché io li amo? Occettualmente non... Però, prendiamo i gialli, che comunque vi piacciono un sacco, quindi in realtà... A noi vi piacciono anche i rosati, perché va bene, io non faccio testo, vi piacciono un sacco di cose. Facciamo i gialli, ok? Perché cito i gialli? Perché qualche mese fa Francoforte, che voi conoscete come responsabile delle colline, dico la Mondadori, oddio, sì, no perché sono un paio d'anni che non guardo che cosa fa esattamente, credo sia quello. Comunque insomma, è un gran figo della Mondadori, ok? E' un gran... o piacere, se vi piacciono gli gommi senza capelli. E... vabbè, lasciamo stare le battute. Comunque Francoforte, autore del pontual della scrittore e quella roba lì, ha fatto un post, credo un paio di mesi fa, ma non sono sicurissimo, ce l'ho salvato però, va bene, su Facebook, nel suo profilo, in cui si lamentava fortemente di questa miriade di autori, i rompicoglioni in realtà, che gettavano valanghe di gialli del cazzo verso la Mondadori, verso le sue Robinson. Perché? Perché la gente senza passione, a cui non fregava un cazzo dei gialli, che non capiva un cazzo dei gialli, che si improvvisava a fare i gialli perché gli han detto che i gialli, inteso thriller, gialli class, cose varie, vendono molto. Sì, e li facevano, ovviamente, mandavano testi di merda, perché ovviamente inseguono il risultato, ma per inseguire il risultato. Cioè, ah, lì li leggono molto, quindi lo scrivo anch'io. Sì, ma non ci capisci un cazzo, non è la tua passione, non sai come si fanno? E vieni inondato di merda. Ti trovi tu inondato di merda di gente che non dovrebbe scrivere gialli, che sta scrivendo gialli perché gli hanno detto che se vuoi fare il professionista devi guardare cosa vuoi in mercato e fare quello, ma non lo sai fare. Non ti piace, perché ti manca il tassello che va anche bene guardare cosa vuoi in mercato, ma non per fare ciò che vuoi in mercato, per dire io ho due, tre, quattro cose che mi appassionano. Scriverei tutte volentieri uguale, diciamo. Poi magari mi piace un pochino di più la fantascienza militare, mi piace un pochino di meno il fantasy mitologico, però mi piace comunque. Nel mezzo, che ne so, mi piacciono anche gialli e mi piacciono i romanzi storici. E ti arrivano a dire che i romanzi storici e i gialli sono quelli che vendono di più, che il fantasy vende molto di meno, ma ancora vende abbastanza bene, la fantascienza militare non vende un ciufolo. In realtà anche questo non è vero, abbiamo i dati di vendita alla mano, comunque non vende un ciufolo rispetto agli altri, se ragioni che vuoi fare il best seller, ecco. Se vuoi fare il piccolo libro col piccolo editore e ti accontenti di vendere anche molto di più di quanto vendi un libro meglio, ma non farei 50.000 copie, 100.000 copie, però magari ne fai un migliaio o ne fai 500, e ricordiamo che un libro normale, che sta vendendo comunque bene, vende sulle 150 copie, dati che mi confermava anche, che ha confermato un sacco di volte anche Livio Gambarini, che è un mio studente fin dal 2014, e che ha pubblicato con PM, ha pubblicato con Hacker & Books, ha pubblicato con altre case editi su romanzi storici, cose varie così. Dicevo, va bene dire, magari dite, ok, io voglio anche raggiungere più lettori, voglio anche vendere, ma magari non faccio la fantascienza militare per questi motivi, però le altre cose mi appassionano tutte. Magari dico, tempo i gialli, ma tu sei appassionato, tu sai come si fanno, tu li ami, tu ne hai letti 50, 100, 150, 200, non so quanti ne hai letti prima che ti espodesse questo amore scatenato. Magari ne hai letti anche soltanto 50, ma sei esperto di criminologia, studi cose scientifiche, sei un chimico, un sacco di roba, cioè ti è venuto abbastanza naturale mettere una valanga di conoscenza attorno che puoi usare in un giallo. Così che magari, per arrivare ad avere una cosa simile, una persona come materiale dovrebbe leggere magari 500 gialli, e comunque non arrivarci con quel livello tecnico. Quindi comunque se un appassionato ti esposa e tu ci metti il cuore, sai come farlo? Fai un bel romanzo e dici, va bene, faccio i gialli perché se devo scegliere tra cose che mi piacciono più o meno uguale, questa ha più possibilità di pubblicazione, quindi visto che mi piace. Ecco, ma il discorso deve essere questo. Cose che ti piacciono più o meno uguale. Se ti piacciono i fantasy e ti piace anche scrivere romanzi rosa per ragazzi, per giovani adulti, nel senso di non young adult, ma di new adult, ok? Che in realtà new adult è una categoria che non è esattamente la categoria di età, perché quando è arrivata in Italia intendeva i rosa per una fascia di età, diciamo, dai 16 ai 25, anche un po' di più anni, ok? Tipicamente ambientati all'ultimo anno delle superiori, cose così. Poi sì, possiamo far finta di essere una categoria puramente d'età, ma quando è arrivata in Italia è arrivata per indicare un tipo di rosa che non erano i rosa tradizionali, modello, che ne so, Sparks, modello Gabaldon, i rosa storici nel settembre, nell'inizio 800, cose così, no? Non erano quei rosa, sono i nuovi rosa. Ecco, quelli per esempio che fa la mia carissima amica Giulia Besa, che ad esempio è simultaneamente una grande appassionata di fantasy, ma le piacciono anche quei tipi di rosa. E quindi ha scritto con piacere anche quelli, ha scritto vari romanzi classici nell'ambito dei new adult, che vendono anche molto bene, ma le piaceva farlo. Ci ha accolto la passione dentro, gli ha letti, le sono piaciuti, si è trovata, ha detto ok, bello, vorrei farlo anch'io. Piano? Ecco. Quindi signori, va anche bene dare un occhio al mercato, ma non fate che il mercato decida ciò che volete scrivere. Voi dovete seguire la vostra passione, perché se non seguirete la vostra passione, se diventerete un grigio burocrate, un colletto bianco della scrittura, se morirete dentro, questa cosa avrà vari effetti. Se insegurete il denaro, perderete la passione. Quindi avrete un grigio lavoro che non vi soddisfa e che vi lascia morti dentro, unito a quello che prima era l'hobby che vi dava la scintilla di vita, che è diventato un secondo grigio lavoro che vi lascia morti dentro, in cambio di cosa? Di più soldi? La scintilla che avevate dentro sparirà? E magari il vostro partner si domanderà con chi si è messo? Chi è l'uomo che è la donna che ha sposato? Perché è cambiato così tanto? Perché non ha più quella cosa che lo rendeva meraviglioso 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa? E magari vi trovate che per seguire soldi e il successo non avrete soldi, non avrete successo, non avrete felicità e non avrete più una moglie o un marito. Se invece voi seguite la passione, ma lo fate con criterio, cioè non scrivete a cazzo di cane, ma dite io seguo per la perfezione stilistica, seguo per evocare passione, seguo per migliorare l'ambito, seguo per creare qualcosa di più originale, di più figo, o in certi contesti in cui magari l'originalità non è particolarmente premiata per fare tecnicamente meglio quello schema di storia, tipico nel New Adult, in cui un eccesso di originalità può non essere premiato dai lettori che c'è con la classica storia, con la ragazza a quel sapone, lui che è il cattivo ragazzo che però può essere cambiato, cose anche abbastanza tossiche a livello psicologico però va bene, lasciamo stare, però anche lì puoi metterci la passione, puoi metterci io voglio farlo tecnicamente migliore, perché io so che quel tipo di pubblico ha ancora più di altri pubblici, cerca l'emozione, cerca l'immersione, addirittura un pubblico che dà per scontato che si iscriva in prima persona al presente con più punti di vista, perché giustamente pensano, beh io voglio sempre essere immerso al centro delle emozioni, perché cazzo deve fare qualcosa che mi allontana leggermente o che è più difficile, cioè per loro è normale, quindi a questo punto dici va bene, magari non potrò essere chissà quanto originale, chissà quanto giocare su cose strane nel contesto di questo tipo di storie, però posso farle eccellendo nella scrittura immersiva, a tutte loro cercano quello, cercano la grande emozione, quindi se tu punti su quello hai un grosso vantaggio, va bene, puoi fare quello, va benissimo, e se tu farei quello, se tu seguirei la tua passione avrai che, ok, hai un grigio lavoro che non ti piace, benissimo, ma sei tenuto in piedi da una grande passione bruciante, che ti porta a eccellere, che ti dà enormi gratificazioni interiori, che fa ardere ancora più forte la tua fiamma, che fa in modo in questo modo, che ardendo ancora più forte e facciamo lavori sempre migliori, probabilmente piaceranno al pubblico e quindi arriveranno i soldi a ricompensa, quindi arrivano anche i soldi e questa fiamma che arde sempre più forte e confermata nella tua passione ti manterrà quella persona di cui si era innamorato da tuo partner, ha ancora quella scintilla che ti rende diverso dal 90, 95, 99% degli altri, tu continui a essere quella persona di cui si era innamorato, non diventi qualcun altro, non sei scambiabile con l'atlatico, insegnante di yoga, che mostra così tanta passione per lo yoga e quindi tu vedi un uomo che non vive solo per il denaro ma qualcos'altro e fai le corne a tuo marito, oppure immaginate qualcos'altro, ok signori? Vale anche per gli uomini, anche l'uomo ha piacere che la sua donna sia appassionata di ciò che fa e abbia questa scintilla, questo ardore, quella roba lì, ok? Perché altrimenti anche tu sei prono a gettare quell'occhio particolare a, che ne so, la tua secretaria o l'insegnante di, 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 di che cazzo, ne so, di crossfit, no? Che ci mette così tanto amore dentro e allora ti attrai per questa sua passione, già capite? Signori, dovete avere la passione dentro. Che senso ha vivere vuoti in cerca soltanto del denaro? E qui vi lascio un ultimo suggerimento, leggete Venezia Metal. Ragazzi, ragazzi, ragazzi al cazzo, ci legge Venezia Metal, hai pubblicato, l'hai fatto pubblicare tu da Akron Books, perché io non sono Akron Books, cioè io sono uno che porta libri ad Akron Books, ad Akron Books piacciono regolarmente, sono piaciuti tutti quelli che ho proposto e decido di pubblicarli e quindi sono in grado di selezionare autori in cui vedo la passione, l'abilità, la qualità, portarli e grado da caso questa passione è sempre premiata, anche a livello di vendite e tra poco facciamo un'ultima parentesi. In Venezia Metal il grande messaggio della storia è che a un certo punto devi scegliere tra il successo e la felicità, perché con la felicità, se segui la felicità potrai avere anche il successo, ma se segui il successo a unicosto perderai la felicità. Questa è fondamentalmente la storia, per chi lo sta leggendo, per chi deve leggerlo, guardate i Necronunners, stanno ottenendo un successo straordinario, ma vi sembrano felici. Guardate la storia di Paul, guardate anche la storia di Gianni, il protagonista, Inox. Se tu segui il successo a ogni costo, a scapito della felicità, puoi perdere anche tutto, ma soprattutto il successo senza esserne felici che scopo ha? Perché infelice per infelice puoi essere infelice comunque, ma la felicità è ciò che ci rende felici, cioè noi cerchiamo la felicità e la felicità ci porta alla passione, ci porta a voler fare di più e fare meglio, che poi può portare anche indirettamente al successo. Chiaro? E voi direte, ma io voglio scrivere delle cose assolutamente che al pubblico non è vero. Non è vero, ne abbiamo le prove. Vi porto un romanzo estremo. Alieni coprofagi dallo spazio profondo. Se voi guardate ciò che il mercato vuole, basandovi su ciò che viene già pubblicato dal mercato, che è il discorso che bisogna essere delle teste di cazzo per fare, perché per definizione il mercato non rappresenta ciò che la gente vuole, rappresenta ciò che c'è sul mercato. Cioè il mercato è il mercato, non è qualcos'altro. Voi avete visto che adesso è pieno di auto? Benissimo. Nell'ottocento non c'erano. Se voi se guardate il mercato e l'ottocento avete detto, avesse detto, nessuno vuole automobili. Perché? Perché non ci sono. Ma è stupido, no? Prendete il mix cioccolato e burro di arachidi. Prima che Reese, che d'altro vende ancora i suoi prodotti, cioè esiste ancora quel marchio intendo, inventasse l'abbinamento burro di arachidi e cioccolato, non esisteva. Quindi non avrebbe detto, beh, nessuno sta comprando un mix burro di arachidi e cioccolato, quindi nessuno lo vuole. No, appena cominciò a vendere nel 1928 giù di lì, fu rapidamente un successo clamoroso. Voi non dovete guardare cosa c'è già sul mercato, dovete ragionare, accendere il cervello. E i vostri gusti, ricordate, non sono tanto diversi da quei degli altri, non siete degli alieni venuti da Giove. Ciò che vi appassiona e faccio è che appassioni molte altre persone, dovete solo trovarle. Chiaro? Bene. Alieni coprofagi dallo spazio profondo, uno direbbe, ma è fantascienza e la fantascienza vende pochissimo. Ok? Che poi anche lì non è vero e vi porto un altro esempio dopo. Ha un tema stranissimo che può disgustare il mangiare la cacca, la coprofagia. Ha il cliché di rapimenti alieni, ha tutte le cose che dici boh, cioè, chi può voler leggere questa cosa? Benissimo. Vi ricordate che prima avevo detto che i romanzi tipicamente vendono quando va molto bene, cioè quando va bene normalmente, 150 copie, poi più sali, più va meglio quando fai mille copie, mio Dio, quanto cazzo sei bravo per un piccolo editore. Maggio a parte dei romanzi, dato che mi spiegava anche Livio Gambarini, che vi ha spiegato in vari video sul suo canale, cose così, non arrivano a 50, cioè la metà dei romanzi non arriva a 50 copie. Se prendiamo i dati ufficiali, quelli presentati anche in quel vecchio libro di Ponte di Pino, come cazzo si chiamava, addirittura il 95% dei romanzi non arriva a 3 copie, poi non stiamo ragionando di quelli che, nel sottinsieme di quelli che stanno vendendo qualcosa, non nel totale creato. Nel sottinsieme di quelli che stanno vendendo qualcosa, a metà non arriva a 50 copie, l'altra metà si attesta intorno ai 100, 150, massimo, 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 200, più o meno. Poi un sottinsieme di questo 50% che fa meglio sono quelli che vanno a fare di più. Alieni Coprofagi è lo spazio profondo, che è un long seller per Antonio Tumbini, editore in cui si trova ancora, vende ogni anno un po' di copie, un buon numero di copie, e dopo, a distanza di dati del 2022 ovviamente non ci sono, i dati del 2021 neppure li ho, credo di avere i dati al 2020 completo, perché mi ricordo che mi aveva dati ancora durante il 2021, al 2020 completo, forse, primi mesi del 2021 non sono sicuro, insomma facciamo in sei anni, aveva venduto oltre 600-700 copie. Sì, 700 copie, sì, 700 copie, quello che era insomma, cioè tante, molto di più di 150 per farvi capire. E voi direte, ma come, è una cosa così nicchia che nessuno? No? L'autore sa di cosa stava scrivendo, era un appassionato, raramente tu puoi essere l'unico appassionato di qualcosa sulla Terra, e per quanto quel romanzo non abbia spinto a pubblicitare, non abbia neanche fatto le offerte su Amazon, non è mai finito al Daily Deal d'Azzare 99, eccetera, eccetera, vende un po' di copie ogni anno e nel tempo si è fatto le sue 700 copie, 700 copie con i primi mesi del 2021, sono abbastanza certo. Chiaro, signori? E voi direte, eh vabbè, un caso isolato, no signori? Uno degli altri romanzi che ha venduto di più nella vecchia Vaporteppa, quando ancora la collana di A.T. Editore e non la collana di A.C. Rombux, è stato Abaddon. Abaddon ha venduto, mi sembra, più di mille copie complessive. Una fettina di queste sono state, mi sembra, 300 in un giorno con un Daily Deal, le altre sono state copie naturali, di cui, se ricordo giusto i conti, 500 di queste a prezzo pieno. Fantascienza militare in teoria non vende un cazzo, ma l'autore ha fatto Fantascienza militare al meglio che poteva come scrittura, mettendoci passione. Poi è assolutamente il romanzo meno interessante di Menconi. Per me in ordine sono... Oddio, non saprei più dirvi, Sangue nel mio Sangue e la fine dell'uomo? Ormai li vedo dello stesso livello qualitativo, perché la fine dell'uomo è stato lì lavorato, facendo piccole correzioni stilistiche, varie piccole cose, dopo Sangue nel mio Sangue, per la nuova edizione A.C. Rombux. Quindi direi che Abaddon si colloca una grossa spanna al di sotto della fine dell'uomo e Sangue nel mio Sangue. E poi, quale dei due sia migliore per voi di prendere i vostri gusti? Come profondità su certi argomenti, sicuramente la fine dell'uomo, come godibilità, come romanzo standard, probabilmente Sangue nel mio Sangue, ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Chiaro? Signori, quindi, anche qui, come abbiamo ottenuto di vendere molto di più delle già tipicamente soddisfacenti 150 copie, 200 copie, che il piccolo editore si aspetta di fare da un romanzo che sta vendendo abbastanza bene. L'abbiamo ottenuto con fare bene le cose, seguendo la propria passione. Venezia Metal, che parla di metallare a Venezia, sta avendo un sacco di recensioni positive, un sacco di mail entusiasta e molte di più di recensioni positive all'autore, e non ha venduto neanche niente male. Se contiamo soltanto le vendite a prezzo pieno del libro cartaceo sul solo sito di Acheron Books, quando l'abbiamo spinto al primo mese ha fatto 150 copie. A questo dovete aggiungere le copie digitali su Amazon, le copie cartaceo su Amazon, tutto il resto. Primo mese, sono passati altri mesi nel frattempo. Cioè in un mese ha già fatto quello che fa nella sua vita di 2, 3, 4, 5 anni un romanzo di medio successo tipico di un piccolo editore. Signori, e queste cifre tante volte non sono distanti dai romanzi di fuoco di saturazione, cioè quel 90%, 80% di romanzi che tira fuori un grande editore, che sono fatti solo per creare valore di magazzino, copie, eccetera, eccetera, nel modo che vi ho spiegato qualche mese fa in una live dedicata sui meccanismi di editoria a livello economico. Quindi signori, se voi volete veramente scrivere qualunque sia il vostro obiettivo, anche se avete la fantasia di fare anche dei soldi con cui pagarvi le vacanze e comprarvi ogni anno lo smartphone nuovo, quello che volete, comunque voi dovete seguire la passione, il fuoco della passione, dell'amore per ciò che fate, mai pensare che questo vada messo in secondo livello rispetto all'inseguimento del successo, all'inseguimento del denaro. Altrimenti finirete come i bambini del gruppo A che inseguendo il premio da ricevere in automatico se avessero fatto, perdevano la passione. Voi diventerete invece i bambini del gruppo B che quando si dedicavano alla loro passione alla fine ricevevano anche il premio e questo li portava a non perdere la passione. Bene signori, vi ricordo che l'offerta con strategia antiblocca ed esperienza antiblocca in due grandi contenuti, uno attualmente strategia antiblocca a 5 ore di contenuti, ma mi sono venute in mente 4 lezioni aggiuntive quindi lo sto per espandere. Voi dire, ma è già completo? Perché lo espandi? Fa un prodotto nuovo? No, lo espando perché per me è importante, per me c'è la passione, per me i corsi non sono un modo per tirarvi fuori soldi come per gli altri fondamentalmente, per me sono un modo per esprimere la mia passione e per farvi crescere e migliorare, quindi sì, quei contenuti ve li metto lì dentro perché lì dentro devono stare, ok? Quindi abbiamo 5 ore di contenuti in crescita, perché faccio così, perché è così che funziona ed è così che vendo tanto grazie alla passione, più 9 ore di esperienza antiblocco e siamo già a 14 ore più la crescita, più 30 ore di corso di corso avanzato di scrittura creativa tra vari contenuti vari, lezioni, live, cose varie anche lì. È cresciuto anche quello, è cresciuto di 40 minuti la scusa settimana con due lezioni aggiuntive, più il corso avanzato di sceneggiatura che sono 41 lezioni in forma scritta in crescita senza ancora i video. Quando avrai video si tratterà sicuramente di oltre... ma non voglio neanche pensarci di quante cacchio di ore saranno. Insomma, tutto questo ben di dio per appena 4 rate mensili a 340 euro, oppure 10% di sconto, 1200 euro in botta unica, ma solo fino a martedì 15 marzo domani alle 23.59. Questa sera vi aspetto con Capitan Miller che vi parlerà del suo caso e di come fare la cosa sbagliata l'ha danneggiato. Come non seguire le passioni che vi insegno in strategia antiblocco, in esperienza antiblocco, che in fondo sono anche il filo conduttore di tutti i miei discorsi, tutto il mio approccio alla scrittura nei due corsi avanzati, come non seguire queste cose l'ha devastato. Ce ne parla stasera alle 21.00. Domani sera invece avremo una live con gli esperti che hanno portato le loro esperienze in esperienza antiblocco. Avremo Carmelo Torre, avremo Lorenzo Manara, avremo Luca Marucci che vi ricorderete probabilmente per la sua testimonianza sul mio corso bellissimo di 8 minuti e qualcosa portata pochi giorni fa sul mio canale e per essere stato il vincitore della seconda edizione di Pitch Nado. Indovinate come ha vinto, indovinate qual è stato il filo conduttore per insegnargli a fare i pitch, insegnargli a portare il suo testo. Filo conduttore che gli ho portato come contenuti addizionali in un paio di consuenze che ha fatto con me mentre si parlava di altro. È stata anche la passione. Pitch Nado, seconda edizione Luca Marucci l'ha vinto, l'ha vinto con quella professionalità e competenza e capire cosa che viene dalla passione per ciò che stai portando, ma la passione vera che ti porta a voler fare bene le cose. Non il vado a cazzo di cano, mio dio è la mia opera, quello ti porta a essere il secondo, il terzo, il non classificato. Luca Marucci ha vinto seguendo il mio metodo, non ha vinto seguendo il guardo a cosa vuole il mercato, fai cosa vuole il mercato e poi fai un'opera spenta, non fai cazzo nessuno è, non arrivi neanche alla finale di Pitch Nado. Chiaro signori? Bene. L'offerta scada alle 23.59 del 15 marzo, le live sono stasera e domani, non perdetevele, non perdete statigianti blocco, non perdete esperienze di blocco, ma soprattutto non mi importa se perdete queste cose, ma datemi una sola cosa che mi interessa, non perdete la passione per la scrittura, non vendetevi al dio denaro. Pensate questo, se seguite il successo non avrete né il successo né la felicità, o se avete il successo sarà un successo che poi si spegnerà nell'infelicità. Se seguirete invece la felicità, prima di tutto avrete la felicità e secondo, probabilmente, come dimostrato da più autori e più romanzi nel corso degli anni, avrete anche la felicità e il successo e non soltanto la felicità.